Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILE dove per lavori si segnalano rallentamenti tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze e tra Cinestra Fiorentina ed Empoli Est in direzione Livorno. Per questi lavori lo svincolo di Montelupo Fiorentino è chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo dal Livorno. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. In A1 fino alle 19 di oggi resteranno chiusi per lavori i tratti tra Aglio e Rioveggio in entrambe le direzioni. A Firenze in Viale Amendola chiuso il controviale tra Viaggio 8 e il numero civico 48. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! A Firenze in Viale Amendola chiuso il controviale tra Viaggio 8 e il numero civico 48.